Emma, Emma è stata l'ultima volta fantastica quando hai fatto lo scambio dei ruoli così con mamma, papà, genitori ma non potresti fare questo gioco con qualcun altro, con degli amici ma non ho tanti amici io, ma non è tanto divertente, sono solo due allora dovresti cercare di nuovi amici, non puoi, non lo so, darti appuntamento con qualcuno darmi appuntamento? Devo pensarci, sì, potrei chiedere a qualcuno sì, ho nascosto il numero di telefono di Frankie qui Frankie, non so come si scrive o come sembra, non lo so leggere oh, ma lo so chi è capace Anna, Anna, vieni Emma mi ha chiamato, Emma, sì, arrivo e Pia, aspetta qui, tu ferma, eh cosa c'è, Emma? vorrei chiamare qualcuno ma non sono capacità di leggere cerco a Frankie il suo telefono ah, qui c'è scritto vado a prendere il telefono poi ti telefono, ok? sì ecco, ok, faccio il numero e poi tu parli ciao Frankie, sono Emma sì, ti ricordi la scuola di mostri? ecco, volevo chiederti se volevamo fare qualcosa insieme oh, Emma, ciao, sono contenta oggi devo andare dal parrucchiere per un nuovo stile per i capelli vuoi accompagnarmi? ah, sarebbe fantastico, lo faccio volentieri sono esperta dei capelli vado spesso dal parrucchiere oh, Anna, sono impegnata oggi pomeriggio devi portarmi però dal parrucchiere ok, ok, va bene ma che amico ti cerchi? è veramente fantastico ok, allora eccoci qui dal parrucchiere entri da sola? grazie che mi hai portato qui ti aspetterò qui a Frankie non sarà ancora arrivato siamo un pochino in anticipo, credo ok, Emma allora, vado un attimo al centro commerciale ok, poi vengo a prenderti tra un'ora, ok? ok, io sono qui, eh? ma dov'è Frankie? non so che ore siano non so dove leggerlo oh, là c'è Emma è davvero puntuale ah, Frankie, eccoti ah, piedi nudi, non hai freddo? eh, no allora, entriamo, no? grazie che mi tiene aperta la porta molto gentile sono molto curioso di sapere cosa mi aspetterà là dentro penso che non sono mai stato la parrucchiere ma i miei capelli non crescono vabbè, buongiorno, sono Frankie e vorrei togliere i capelli e io sono Emma e sarò la sua consulente Emma, sì, sì, ti conosco ma lei non l'ha mai vista, Frankie è nuovo quel primo bil molto strano sì, 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 è da pure sì, allora, cosa posso fare per lei oggi? una vacanciatura? non lo saprei nemmeno io non ero ancora nella mia vita da un parrucchiere ma che so, appunto, Emma lei sa cosa sarebbe per me la cosa migliore sì, allora può provare diverse cose diverse come aveva fatto con me? e con altri clienti? ok, allora, vediamo cosa potrebbe stare bene a lei con la sua pelle ok, cosa ne dice? devo guardare un attimo non lo so no, no, no sei veramente strano sembri, non lo so dei broccoli bruciati no, non penso sia no, non mi sembra non mi piace mi sembra un po' non lo so una pecora ok, ok, non si preoccupa allora proviamo qualcos'altro e così invece? questo è qualcosa di diverso sembro un po' come come mia mamma no, no non penso sia una cosa positiva se sembri tua mamma oppure io vorrei sembrare mia mamma ma tu no sì, sembro davvero mia mamma ma questi capelli sono davvero fantastici così ok, allora cambiamo idea ancora un'altra cosa? wow, una conciatura così non l'avevo mai vista wow, Frank hai un hamburger sulla testa wow no, questo non ho scherzo ho una fame ricominciamo tra poco ok ho un'idea fantastica sta benissimo così guarda wow mi ricordo qualcuno sembra un po' non mi ricordo chi wow Frank che stai benissimo è la tua conciatura perfetta anche se l'hamburger non sarebbe stato male ok sì, sì così mi piace molto, molto ok allora le metto un pochino di lacca così resta la conciatura perfetta una vita intera direi mi chiedo da tutto il tempo come mai è così strano così verde e perché sa di spinaci ne avrà mangiate troppe e sarà per quello così verde ah eccovi finalmente sì, sì ci è voluto un pochino guardalo Frankie oh Frankie non sarei sì, ti sta molto bene oh grazie cosa volevo chiedere ancora ecco sembro sembro spaventoso perché quello è davvero importante Frankie sembri divertente stai bene è da tanto che non ho più paura di te dai Emma dobbiamo andare a casa saluta ciao Frankie ciao ci vediamo presto magari sì ciao Emma penso che dovrò trovare ancora qualche vestito non lo so ora sono davvero cool ma volevo essere pauroso mh a tutti